Buongiorno, oggi è una giornata speciale, è molto molto speciale, si respira aria di amore, di amore eterno si parla, prego, venga, c'è una sorpresa per lei, prego, bravo, che amore mio, bacio, 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 bene così non posso, bravo, è bello, sei contento? Dì una frase d'amore. Ma ci sono stato bello, te lo hai amato, e amoso come il primo giorno che tu viste. E' più agli risposi, e' più agli risposi, e' più agli risposi. E' sta a riposo, sta a riposo, sta a riposo, stanotte ha fatto famiglie. E' più agli risposi, ma facciate piccaccia poveri. Nooo. Eravate un porcellino voi, eravate. Una volta, una volta, caro finissimo, quando andavi da una ragazza dovevi chiedere la mano al papà. E lui l'ha chiesto? Certo. E che gli ha detto? Gli ha detto, mi voglio fidanzare la vostra figlia, siete contenti? Gli ha detto, non si fa come adesso, gli spagoni. Aspetta, aspetta, questo e' il piatto forte. Cala, amari, ma anche dolci. Va bene? Sono amari e sono a brodo di giugio ripassati. Poi abbiamo lo stelvio. Basta che stendiamo le mani. Va bene. Eh? Nooo, sul menino. Dio no, sul menino. Dio no. Dio no. Com'è�i balli. E un paomino! Com'è! La tua vita che stava a liberare alla famiglia. Molto dalle panttal! Fala. Cosaicitò equivale! Escolta! Terima! E' una famiglia facilmenteò com'è via il tempo, di questo tipo di, were, città la tua famiglia, Voglio sapere come è fatta a conoscere 63 anni fa Maria? Come l'ha agganciata? L'ha agganciata, mica non si va a pesca. E' quasi, guarda, come l'avete conosciuta? Conosciuta che una volta si doveva caricare, allora c'è un cammincino a caricare i maiali e l'ho vista. E te ne sei invagito? L'ho vista, dopo ci sono capitato. Ah, apposta? Ci sei ritornato apposta? Ma non mi ricordo. E quando è che gli hai fatto la proposta indecente? Ma io le ho proposte indecente e non le ho fatte mai. Eh no, dietro al pagliaio dai, voi siete un marpione. Guarda, guarda, guarda! Alla sant'è di don, s'il vous plé. Al milionessimo brindisi festeggiamo il sessantatresimo anno di matrimonio di Maria e Faustino. Al milionessimo brindisi festeggiamo il sessantatresimo anno di Maria e Faustino. In questo reliquario si conserva un pezzo di panino alla mortatella che apparteneva al Faustino detto Sassbrocchella. E' questo. E' spazio, spazio, spazio Eeeeeeeeeee Sta ficchiando, eccolo a sinistro, a sinistro, a sinistro, eccolo, state a faticare fino a mo, capito, mica a mangiare, ho lavorato io, auguri, auguri, grazie, auguri, questo è acqua, è acqua vite, è acqua vite, no no, è vite dato, no, questa è acqua vite, èuem 그걸atobbiamo! ti è Natale, grazie! una tovaglia un momento, un momento, posizione la dedica belle, guardate c'è la dedica il regalo the most beautiful? La tovaglia, quella è indispensabile per chi come voi ha saputo tenere intorno alla tavola per 63 anni la famiglia e gli amici più cari. Augurandovi da quei tanti anni buon anniversario, vi vogliamo bene, Filiberto e Nicoletta. Che bello di Roma! Eccolo, si è emozionato l'orzacchiotto! Avere amici come voi, lo considero una vera fortuna, perché voi siete esempio per tutti quanti noi, dal cuore vi auguriamo un mondo di beni, tanti auguri a Michele e Matteo, grazie! Grazie a Canavera, grazie a tutti, grazie! Mi prometto che non lo devi far tagliare a lui, se no lo sapete! Ma si taglia la lupa al disastro! Ecco, non lo vedo! Ma mi taglia a te! Grazie! Ma si taglia la lupa al disastro! Nepote come questo, si giri tutta l'Europa, non lo trovi! E il mondo non l'Europa! Guarda, sarà che che sarà! Ma lui, per i nonni, non c'è altre persone! Lo so, lo so! Io so che non ci voglio andare su tanti posti, se no mi porta sempre in giro, e di qua, di là, di là! Io, c'ho una certa età, non ci vuoi andare! Fai bene, no? Però con certi posti non ci devi propagare! Lui, lo porterebbe sempre dietro! Fa bene, fa bene! Ci sono tante persone che ricevono del bene e poi fanno del male! No, bene e male! Invece questo no! Questo è diverso! Quello che ha ricevuto, ha ricevuto! Questo non è il cavolo! Ma a st'età, che porta a spasso un da 94 anni, io penso che non esiste! Esatto, esatto! Fai bene! Bravo, Nonno! Grazie. Grazie.